L'allarme era partito lo scorso inverno con la provincia di Como che annunciava di non avere abbastanza soldi per fronteggiare eventuali forti nevicate. Poi la carenza di risorse di Villa Saporiti era nuovamente venuta a galla in marzo, quando l'amministrazione provinciale aveva alzato bandiera bianca sulla pulizia del lago. Ora la provincia di Como rischia di dover tagliare anche sul servizio bibliotecario. Il motivo è sempre lo stesso, casse vuote. L'anno scorso quasi 100.000 comaschi hanno usufruito dei servizi della rete bibliotecaria provinciale di Como, tra i quali il prestito interbibliotecario e i servizi online. Il costo totale del servizio è 150.000 euro all'anno per tutta la provincia, coperto per due terzi 104.000 euro dalla regione. Oggi, scrive il consigliere delegato Guido Rovi, insieme con tre assessori alla cultura comaschi, a seguito della riforma delle province e soprattutto della mancata erogazione dei finanziamenti fin qui sempre distribuiti da Regione Lombardia, la provincia di Como si trova in seria difficoltà nel mantenere attivo un servizio di cui tantissimi comaschi di ogni fascia di età e reddito hanno usufruito in questi anni. Fino al 2014 Regione Lombardia ha coperto il 75% delle spese, la provincia il 25%. Quest'anno Villa Saporiti, si legge ancora nell'appello, a seguito degli enormi tagli subiti nel proprio bilancio, si trova in gravi difficoltà nella programmazione. I finanziamenti regionali sono assolutamente vitali per mantenere questi servizi e la loro diminuzione porterebbe all'interruzione degli stessi o a un drastico ridimensionamento.